Questo è il primo di tre sfogliatopi che ho deciso di dedicare alle testate Maestri Disney e Tesori International Disney di cui ho parlato in un video precedente di Collezione Disney. In questo primo sfogliatopo andiamo a vedere il primissimo numero dei Maestri Disney dedicato a Giovanni Battista Carpi. Possiamo quindi apprezzare in maniera più precisa rispetto al video che ho dedicato alla testata la struttura della stessa che alterna articoli di approfondimento alle storie selezionate dalla redazione del Maestri Disney. E' interessante come sui primi numeri dedicati ai vari autori che si sono alternati erano presenti la parte biografica e alcune frasi, citazioni di altri autori riguardanti proprio gli disegnatori approfonditi in quel volume. A questo punto su questo estratto della questione cronologia di Carpi non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e darvi appuntamento al prossimo sfogliatopo.